Ciao a tutti! Oggi giochiamo con Escape Math, il labirinto dei numeri. Escape Math è un gioco per tutti, a partire dagli 8 anni e si gioca da 2 a 6 giocatori. Una partita dura all'incirca 25 minuti, stimola il calcolo mentale e il quick thinking. La scatola contiene 25 tessere dei numeri, 23 tessere obiettivo verdi, 23 tessere obiettivo rosse, una tessera errore. Si rispongono le tessere bianche dei numeri formando un quadrato 5x5. Si mescolano le tessere obiettivo e si rispongono in più mazzetti accanto al tabellone insieme alla tessera errore. La tessera al centro del quadrato è la partenza. Obiettivo del gioco è uscire dal quadrato labirinto dei numeri, cercando un percorso matematico di addizioni e stottrazioni che dia come risultato il numero della tessera obiettivo pescata. Come si gioca? All'inizio di un round si pesca una tessera obiettivo e si mostra a tutti i giocatori. Osserviamo, la tessera obiettivo è verde. Il percorso matematico dovrà comprendere almeno una sottrazione e il risultato richiesto è 13. Appena un giocatore trova un percorso corretto dice Fatto! E mostra a tutti il percorso che ha trovato, indicandolo con il dito. 5 più 3 più 5 meno 1 più 1 uguale 13. Esatto! Se ha fatto i calcoli correttamente, guadagna la tessera obiettivo. Giochiamo ancora. La tessera obiettivo è rossa. Il percorso matematico dovrà comprendere almeno due sottrazioni e il risultato richiesto è 6. Chi lo troverà per primo? Fatto! 5 più 4 meno 1 meno 2 uguale 6. Ottimo! I calcoli sono giusti e il giocatore guadagna la tessera obiettivo. Se invece un giocatore ha sbagliato i calcoli del percorso, esce dal round e viene consegnata la tessera errore. Vince chi conquista per primo 5 tessera obiettivo. Bene! Siete pronti a giocare a Escape Mat e scoprire tanti altri giochi allenamente? Ludic. Games for Active Minds.